Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinar. E là, si stanziarono. Si dissero l'un l'altro, venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero, venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama, affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse, ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio. Perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Terra visse 70 anni e generò Abramo, Naor e Aran. Questa è la discendenza di Terra. Terra generò Abramo, Naor e Aran. Aran generò Lot. Aran morì in presenza di Terra, suo padre, nel suo paese natale in Ur dei Caldei. Abramo e Naor si presero delle mogli. Il nome della moglie di Abramo era Sarai e il nome della moglie di Naor, Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile. Non aveva figli. Terra prese Abramo, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, cioè figlio di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abramo, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Essi giunsero fino a Caran e là soggiornarono. Il tempo che Terra visse fu 205 anni. Poi Terra morì in Caran. E il Signore disse ad Abramo, Va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e vai nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione. Ti benedirò e renderò grande il tuo nome. E tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo partì come il Signore gli aveva detto. E Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistate in Caran. E partirono verso il paese di Canaan. Giunsero così nella terra di Canaan. E Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i Cananei erano nel paese. Il Signore apparve ad Abramo e disse, Io darò questo paese alla tua discendenza. Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Di là si spostò verso la montagna a oriente di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abramo partì, proseguendo da un accampamento all'altro, verso la regione meridionale. Venne una carestia nel paese e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era grande nel paese. Come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai sua moglie, Ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno, È sua moglie. Essi mi uccideranno, ma a te lasceranno la vita. Di dunque che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te e la vita mi sia conservata per amor tuo. Quando Abramo giunse in Egitto, gli egiziani osservarono che la donna era molto bella. I principi del Faraone la videro, ne fecero le lodi in presenza del Faraone e la donna fu condotta in casa del Faraone. Questi fece del bene ad Abramo per amore di lei e Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il Faraone e la sua casa con grandi piaghe a motivo di Sara e moglie di Abramo. Allora il Faraone chiamò Abramo e disse «Che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto «è mia sorella?» Così io l'ho presa per moglie. Ora ecco ti tua moglie, prendila e vattene». E il Faraone diede alla sua gente ordini relativi ad Abramo ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che egli possedeva. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quel che possedeva e con Lot andando verso la regione meridionale. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento ed oro e continuò il suo viaggio dal meridione fino a Betel al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima. E lì Abramo invocò il nome del Signore. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anche egli pecore, buoie e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame d'Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I Cananei e i Farezei abitavano a quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot, «Ti prego, non ci sia discordia tra me e te né tra i miei pastori e i tuoi pastori perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan. Lot abitò nella città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te. Allora Abramo levò le sue tende e andò ad abitare alle querce di Mamre che sono a Ebron e qui costruì un altare al Signore. Avvenne al tempo di Amrafel re di Sinear, di Ariok re di Elasar, di Kedorlaomer re di Elam e di Tideal re dei Goim che essi mossero guerra a Berra re di Sodoma, a Birsa re di Gomorra, a Sineab re di Adma, a Semmeber re di Seboim e al re di Bela cioè Soar. Tutti questi ultimi si radunarono nella valle di Sindime che è il Mar Salato. Per dodici anni erano stati soggetti a Kedorlaomer e al tredicesimo anno si erano ribellati. Nell'anno quattordicesimo Kedorlaomer e i re che erano con lui vennero e sconfissero i refei ad Asteroth Karnaim, gli Zuzzei Adam, gli Emei nella pianura di Kiryataim e i Corei nella loro montagna di Seir fino a El Paran che è presso il deserto. Poi tornarono indietro e vennero a En-Mispah cioè Cades e sconfissero gli Amalekiti su tutto il loro territorio e così pure gli Amorei che abitavano ad Asason Tamar. Allora il re di Sodoma e il re di Gomorra il re di Adma il re di Seboim e il re di Bela cioè Soar uscirono e si schierarono in battaglia contro quelli nella valle di Sidim contro Kedorlaomer re di Elam Tideal re dei Goim Amrafel re di Sinear e Ariok re di Elasar quattro re contro cinque. La valle di Sidim era piena di pozzi di bitume i re di Sodoma e di Gomorra si diedero alla fuga e vi caddero dentro quelli che scamparono fuggirono al monte i vincitori presero tutte le ricchezze di Sodoma e di Gomorra tutti i loro viveri e se ne andarono andandosene presero anche Lot figlio del fratello di Abramo con i suoi beni Lot abitava infatti a Sodoma ma uno degli scampati venne a informare Abramo l'ebreo che abitava alle querce di Mamre la Moreo fratello di Escol e fratello di Aner i quali avevano fatto alleanza con Abramo Abramo comebbe udito che suo fratello era stato fatto prigioniero armò 318 dei suoi più fidati servi nati in casa sua e inseguì i re fino a Dan divisa la sua schiera per assalirli di notte egli con i suoi servi li sconfisse e li inseguì fino a Coba che è a sinistra di Damasco recuperò così tutti i beni e ricondusse pure Lot suo fratello con i suoi beni e anche le donne e il popolo come gli se ne tornava dopo aver sconfitto Kedorlaomer e i re che erano con lui il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shave cioè la valle del re Melchisedec re di Salem fece portare del pane e del vino egli era sacerdote del Dio Altissimo egli benedisse Abramo dicendo benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo padrone dei cieli e della terra benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici e Abramo gli diede la decima di ogni cosa il re di Sodoma disse ad Abramo dammi le persone i beni prendili per te ma Abramo risposi al re di Sodoma ho alzato la mia mano al Signore il Dio Altissimo padrone dei cieli e della terra giurando che non avrei preso neppure un filo né un laccio di sandalo di tutto ciò che ti appartiene perché tu non abbia a dire io ho arricchito Abramo nulla per me tranne quello che hanno mangiato i giovani e la parte che spetta agli uomini che sono venuti con me Aner Escol e Mamre essi prendano la loro parte